La cosa più importante l'abbiamo fatta capire, che noi non oggi siamo qua per sentare un giorno di scuola, noi siamo qua per la scuola, ma non per il reato, per la nostra scuola pubblica e carico per il suo prezzo. La cosa più importante l'abbiamo fatta capire, la cosa più importante l'abbiamo fatta capire, che noi siamo qua per il suo prezzo. La cosa più importante l'abbiamo fatta capire, 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 comandiamo noi, comandiamo noi, comandiamo noi, comandiamo noi! E' quello in una scuola, la cosa più importante l'abbiamo fatta capire, è tutto rotto! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.